È rilevante comprendere queste cosiddette tombe, forse a maggior parte sono in onore dei figure femminili, certo la storia ufficiale dice perché gli Etruschi erano un popolo pacifico sostanzialmente, anche se si ricordiamo intorno a diversi secoli avanti Cristo la famosa battaglia contro i focesi, la cosiddetta battaglia navale sul mare Sardo dove i cartaginesi e gli Etruschi contenerono le mire espansionistiche dei Greci, in questo caso noi possiamo rivedere tutte queste cose nell'ambito della nuova cronologia storica e delle nuove intuizioni che stanno uscendo fuori, come il fatto che questa battaglia si può sicuramente invece dell'undicesimo magari secolo avanti Cristo o il nonno secolo avanti Cristo si può riprodurre in un periodo sicuramente mille anni dopo.